Parlando sempre di potere, qual è il legame del potere con il corpo? E' un legame molto forte, Canetti insiste parecchio su questo, già a cominciare dal momento della nostra nascita, Canetti fa un'osservazione abbastanza agghiacciante, una cosa che è una verità biologica evidente ma a cui noi non pensiamo. In realtà ognuno di noi è un sopravvissuto, quindi quando parliamo di potere non ci riferiamo a qualcosa di altri cattivi che non siamo noi e quindi qualcosa da noi lontana che non ci riguarda, nessuno di noi è Hitler quindi che ce ne importa in fondo. No, in un certo senso noi siamo inevitabilmente, non è colpa nostra, dei piccoli Hitler perché ognuno di noi è sopravvissuto biologicamente ad altri possibili se stesso. Ognuno di noi nasce dall'incontro di uno spermatozoo con un ovulo, ma accanto a quello spermatozoo che siamo diventati noi, ciascuno di noi, ce n'erano milioni di altri che sono morti. Quindi in un certo senso noi siamo sopravvissuti a centinaia di migliaia se non a milioni di vite potenziali che avrebbero potuto essere al posto della nostra e quindi abbiamo tutti alle spalle in qualche modo una folla di io potenziali che non sono mai vissuti. E quindi in un certo senso abbiamo alle spalle per così dire un cumulo di cadaveri tra virgolette senza cui noi non saremmo vivi. Il nostro corpo è una scintilla di vita sopravvissuta a migliaia e migliaia di altre scintille che invece si sono estinte. Ma a parte questo c'è in ogni momento del nostro corpo una dimensione inevitabile di potere, pensiamo all'alimentazione. E con l'alimentazione, qui Canetti cita un testo orientale, indiano, non a caso, e con l'alimentazione tocchiamo l'aspetto più drammatico della vita, cioè il fatto che la vita non può alimentarsi se non attraverso la morte. Noi ci cibiamo di cadaveri, necessariamente, anche questo non è una colpa, è una necessità, però è comunque un dato di fatto, è questo che facciamo. Quindi ognuno di noi è un sopravvissuto, nel senso canettiano del termine, e ogni manifestazione del nostro corpo è in qualche modo un atto di potere. Poi Canetti naturalmente insiste anche molto su altri aspetti, per esempio la mano è il principale strumento di potere, la mano che afferra, la mano che indica, la mano che spinge e costringe, la mano che uccide. I denti che servono appunto a mordere, a strappare, a alimentarci, sono un vero e proprio strumento di distruzione. E c'è una pagina molto interessante in massa e potere, sul rapporto per esempio tra lo stare in piedi e altri atteggiamenti del corpo, lo stare seduti, lo stare sdaiati, lo stare in ginocchio. Anche lo stare in piedi di fronte a qualcuno che è in ginocchio è un'evidente manifestazione di potere, come può essere invece una manifestazione di potere lo stare seduti di fronte ad altri che sono in piedi. Quindi il corpo è il primo e fondamentale strumento di potere, è un'incarnazione di potere. Qui naturalmente dobbiamo anche introdurre una differenziazione che a Canetti spesso lascia implicita. Cioè c'è una dimensione in qualche modo naturale e inevitabile, ci sono aspetti drammatici e violenti dell'esistenza che sono comunque inseparabili dall'esistenza stessa. Non possiamo vivere senza cibarci di altra vita. Questo è un aspetto drammatico, ma è un aspetto che è insito nella natura della vita stessa e evidentemente non possiamo prescindere. Mentre ci sono altre manifestazioni del potere in cui invece possiamo introdurre una dimensione di resistenza, di contrasto, di disobbedienza, di rovesciamento. Quindi per certi versi il potere come la morte è un male, perché comunque Canetti lo considera un male, da cui non possiamo definitivamente liberarci perché è talmente legato alla nostra esistenza che non possiamo eliminarlo senza eliminare la nostra esistenza. Però c'è in più una dimensione del potere da noi costruita che si aggiunge, per così dire, a questa base naturale e lì invece ci sono delle possibilità di contrasto, di disobbedienza, di trasformazione. Quindi per certi versi la visione di Canetti è una visione lucidamente disperata, ma per altri versi è anche una visione fortemente attivistica, energetica, in qualche modo incitatrice. In particolare quando parliamo della dimensione politica del potere e quindi quando parliamo dell'utilizzazione politica della morte, perché è di questo che si tratta, beh qui c'è da ridire e c'è da agire contro. E su questo Canetti dà alcune indicazioni estremamente importanti. Cosa è la massa per Canetti e in cosa si differenzia la sua prospettiva da quella degli autori del suo tempo? Sì, questo è un aspetto di grande interesse, perché Canetti si intive consapevolmente in una tradizione particolarmente forte tra i fini Ottocento e i primi del Novecento, quando si realizza un grande cambiamento politico in tutta Europa, cioè l'avvento delle masse sulla scena politica, la formazione dei grandi partiti di massa, le grandi rivoluzioni, in particolare la rivoluzione d'ottobre, e nuove forme di vita che portano a parlare di società di massa, per esempio. E questo determina una tradizione di studi che nel giro di pochi decenni diventa già molto forte e molto importante, a cui partegono grandi personalità, da Gobineau a Freud a Ortega y Gasset, per citare soltanto alcuni dei maggiori. Ora, in questa tradizione di pensiero, la cosa è molto evidente in Freud ma anche in Ortega, la massa rappresenta una sorta di patologia del moderno, cioè una forma in qualche modo di degenerazione. L'umanità ha raggiunto un certo livello, non di perfezione, ma comunque un livello elevato, più o meno da identificare con la visione illuminista o liberale del soggetto umano, e poi a un certo punto, ci si ammala, a un certo punto nasce una patologia che è appunto il protagonismo delle masse, che vengono viste invece come una regressione, come un ritorno dell'umanità alla barbarie, in sostanza, se non addirittura all'animalità. Quindi le masse rappresentano una sorta di imbarbarimento, una sorta di arcaismo, una sorta di imbestiamento dell'uomo, rappresentano in un certo senso una sorta di ritorno indietro della modernità nel momento in cui essere raggiunto il suo culmine. E quindi sono qualche cosa da stigmatizzare, da combattere, perlomeno da denunciare. Per Canetti il discorso cambia completamente, c'è proprio un'impostazione diversa. Intanto Canetti vede la massa non come un fenomeno proprio della contemporaneità, non la fa derivare dalla rivoluzione industriale, non la fa derivare dai fenomeni di imurbamento, non la fa derivare dai grandi movimenti politici di massa, ma la considera come una dimensione universale, permanente, che non soltanto attraversa tutta la storia umana, ma addirittura radici preumane. Ci sono degli aspetti in cui l'impostazione canettiana anticipa, senza mai identificarsi con essa, l'impostazione sociobiologica. Cioè anche per Canetti c'è una forte continuità tra la dimensione biologica e la dimensione sociale, e in particolare tra la socialità animale e la socialità umana. A differenza dell'impostazione sociobiologica, però, Canetti non è mai riduzionista. Cioè Canetti, a differenza di quello che fanno i sociobiologi, non spiega mai i fenomeni umani riconducendoli ai fenomeni animali come se fossero esattamente la stessa cosa. Il percorso di Canetti è notevolmente diverso. In molti casi identifica un'origine animale, e quindi una dimensione puramente biologica, però è sempre consapevole del fatto che c'è poi uno sviluppo, una trasformazione. La socialità umana deriva da quell'animale, quindi ha lì la propria radice, ma non si ferma a quella radice. Poi ha le proprie forme specifiche, che nel mondo animale non ci sono e che non possono essere spiegate con riferimento al mondo animale. Per quello che riguarda in particolare la massa, Canetti identifica aspetti di massa già nel mondo animale. Ci sono due fenomeni di massa che sono preumani, che quindi sono presenti tra gli animali, e che quindi, essendo preumani, necessariamente attraversano tutta quanta la storia dell'uomo, dalle origini più remote fino ad oggi. E sono la massa aizzata, come la chiama Canetti, cioè la massa che esercita la violenza collettiva, nelle sue varie forme, il linciaggio, ma anche la pena di morte, ma anche l'espulsione, l'esclusione del diverso, per esempio. E questo lo riconduce ai meccanismi originari di predazione del mondo animale. E la massa in fuga, anche in questo caso, ha bassi appunto nel comportamento animale, la fuga in massa di fronte alla manifestazione di un pericolo è qualcosa che già gli animali naturalmente conoscono. Pensiamo alla fuga di un branco di fronte a un predatore o alla fuga di tutti gli animali, per esempio di fronte a un incendio della foresta. Questo fenomeno, però, anch'esso nel mondo umano subisce le sue trasformazioni e poi nel mondo umano nascono forme di massa nuove che non esistono a livello puramente biologico, ma sono costruzioni culturali che implicano una socialità, una socialità di tipo umano e quindi una dimensione culturale. E possono essere sia forme violente, come la massa del rovesciamento, sia forme al contrario non violente, come per esempio la massa infesta. Quindi questo è un altro aspetto di importante differenziazione rispetto alla tradizione, alla recente tradizione degli studi sulla massa, nel momento in cui Canetti inizia ad occuparsene. Il primo aspetto di differenziazione è che per Canetti la massa è universale e non moderna. E l'altro aspetto è che la massa non è necessariamente degenerativa, ma è in larga misura fisiologica, anche se in queste fisiologie possono rientrare sia aspetti violenti e distruttivi, sia invece aspetti di socializzazione costruttiva. Per esempio il dono nell'ambito della massa infesta. Quindi, insomma, Canetti non è manichieo. La massa non è né un bene né un male in sé stessa, è un modo universalmente umano di gestire delle problematiche esistenziali, in maniera particolarissima la gestione del problema esistenziale per eccellenza, e cioè il problema del rapporto con la morte. In Canetti tutto quanto ruota intorno a questo problema di come gestire la nostra mortalità.